Sul mercato non è sempre facile trovare le risorse pronte per inserirsi proprio in questo momento di transizione. Per questo noi alla fine del 2022 abbiamo avviato una campagna significativa di ricerca di personale per la transizione energetica. Abbiamo già inserito 19 persone e abbiamo anche programmato le aule sia di formazione che di selezione per ulteriori 150 persone. Arriveremo poi nel corso dell'anno a fare le ulteriori programmazioni per arrivare a completare il nostro programma di inserimento di 300 persone complessive. Un progetto che investe proprio sull'occupabilità. Abbiamo impostato un progetto che agisce in partnership con tutti i nostri fornitori, che agisce anche in partnership con un'importante società di selezione e ricerca di personale, quale il gruppo Manpower e che sfrutta tutta l'innovazione che il nostro gruppo ha sviluppato nel corso degli anni, soprattutto nel campo della formazione, attraverso la propria corporate university e anche attraverso gli investimenti più recenti sul training center sviluppato a Ferrara per fare proprio attività di palestra formativa sulle nuove competenze per la transizione energetica. Siamo proprio nel pieno del nostro progetto e quindi c'è ancora tutto il tempo per potersi candidare.